Le pene sono troppo severe e gli automatismi della legge impediscono di graduarle, bilanciando attenuanti e aggravanti. Con queste motivazioni un giudice di Torino ha chiesto alla Corte Costituzionale di processare la legge sull'omicidio stradale. Entrata in vigore nel 2016, la nuova normativa prevede il carcere fino a 18 anni per chi causa la morte di più persone, l'arresto in flagranza per chi provoca incidenti sotto l'effetto di stupefacenti e alcol e la revoca della patente per 5 anni anche in caso di colpa minima. Un magistrato torinese ha accolto il ricorso dell'avvocato di un'automobilista che aveva investito una donna, causando le ferite guaribili in 60 giorni. Entrambe le donne non avevano rispettato il semaforo rosso, ma nonostante il patteggiamento all'automobilista è stata imposta una pena senza attenuanti con l'automatica revoca della patente e l'impossibilità di rifare l'esame di guida per almeno 5 anni. Una condanna ritenuta eccessiva dal suo avvocato che ha deciso di fare ricorso alla consulta perché verifichi la legittimità della legge. Il giudice ha accolto la richiesta e il processo è stato sospeso. È la seconda volta che accade. Un altro ricorso alla Corte Costituzionale è stato presentato nel maggio del 2017 da un giudice di Roma con motivazioni analoghe. Intanto, in attesa della sentenza della Suprema Corte, c'è chi la legge la applica senza dubbi. È accaduto a Milano dove un automobilista ubriaco che aveva investito ed ucciso un uomo senza soccorrerlo è stato condannato a 6 anni e 6 mesi di carcere e alla revoca a vita della patente.